Ciao ragazze, la vostra Nelly mi manda un grande bacio e vi dà il benvenuto nel canale di Feramon un canale tutto dedicato al make up e alla cura per il corpo allora, questo video è stato fatto per, come potete vedere nel titolo, i consigli degli acquisti della campagna 03 di Avon allora, come possiamo vedere, sono usciti tutti i nuovi prodotti per la linea estiva, quindi prepariamoci al mare allora, come possiamo vedere, da pagina 4 a pagina 17, possiamo avere, acquistando tre prodotti, questa borsa da mare a soli 1 euro è una borsa celeste, chiaro, che praticamente si presenta così non è in tessuto, infatti è in plastica e si possono, cioè si vedono gli oggetti che riporrete dentro abbiamo tutti i solari, tutte le protezioni da 50, 25, 15 e 10 con le altre creme che servono per il viso e per la pelle sensibile dopodiché abbiamo gli spray, olio secco e spray anche per asciugatura rapida da 30, da 20 e da 6 di protezione solare e poi abbiamo i solari per i bambini con i peggi, vedete, tutti colorati, con i cavallucci marini e abbiamo la protezione 50, 30, 30 e il doposole in gel un gel, penso che sia anche profumato, colore arancione da 150 ml, dopodiché abbiamo i doposole anche in formato large da 400 ml ed è proprio questo, che costa 7,90 euro e allora abbiamo di tutte le dimensioni, per tutti i gusti e poi abbiamo gli abbronzanti, abbiamo un olio secco, una lozione presolare e una lozione autoabbronzante vi faccio vedere meglio allora, iniziamo con il make up la Rabian Glow, se ne io, è derivata a noi l'Avon Glow, con molti, moltissimi, molti vabbè, con un paio di prodotti per la Cosmesi nuovi e per una riveduta, diciamo, di prodotti che già c'erano infatti abbiamo le perle di terra solare nuove, con un nuovo packaging e le abbiamo in due tonalità però stavolta abbiamo la tonalità per le chiare che praticamente è questo qui, per le carnagioni chiare la Sun Kissed e poi abbiamo la colorazione per carnagioni scure la Bronzed a 10 euro e 95 centesimi dopodiché abbiamo la terra solare compatta che sarebbe questa e la terra solare in polvere così già all'interno del pennello allora, per la terra solare compatta abbiamo queste qui abbiamo due finiture la finitura matte dove praticamente abbiamo una per carnagioni chiare e per carnagioni scure e poi abbiamo la finitura luminosa sempre con carnagioni chiare e carnagione scura dopodiché per quanto riguarda la terra solare nel pennello che è questa qua abbiamo sempre due tonalità carnagioni chiare, light e carnagioni scure medium per non fare mancare nulla alle nostre clienti allora dopodiché vi faccio vedere che sono usciti che è uscito un ombretto praticamente è uscito questo ombretto in polvere e il gloss gloss e ombretto in polvere questo ombretto in polvere ve ne sono di quattro tonalità e le abbiamo qui una tonalità bianco panna viola marroncino e color acqua diciamo un azzurino molto chiaro a 6 euro e 95 poi abbiamo i gloss con la 74 colorazioni e abbiamo questo fucsia in un rosa chiaro un arancione e infine abbiamo il color diciamo nude sono usciti anche questi nuovi bichini e questo come si chiama? abito lungo maglia poi vi faccio vedere che sono usciti dei nuovi nuove tonalità ma anche una nuova formula di smalto ed è la nailwear pro più smalto e abbiamo una nuova 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 colorazione e un nuovo una nuova componente abbiamo praticamente abbiamo fortificato questi smalti con gel acrilico e abbiamo una durano 12 giorni di colore a lunga tenuta e 13 fantastiche tonalità come possiamo ben vedere e da questa nuova e da questa nuova formulazione che non solo lo smalto dura molto tempo in più ma anche ha una maggiore lucentezza e una lunga tenuta il colore non svedisce e il colore non se ne va e abbiamo anche questi qua questi colori che sono molto da sera secondo me sono molto carini per le sere estive è uscito anche un nuovo rossetto volumizzante con retinolo il rossetto si chiama colore sempre vero e ci sono sei tonalità abbiamo un rosso e poi rosa rosa chiaro color violaceo color nude e color pesca a 6,95 euro ecco qua poi ragazze Avon ha fatto uscire per voi terminando con i prodotti per il make up passiamo ai profumini che io so che c'è qualcuno che gli piacciono tanto 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 allora abbiamo questi che sono Miami Party si chiama Miami Party e abbiamo il profumo da 50 ml o de toilette a soli 9,50 euro e abbiamo lo spray per il corpo che se non sbaglio è 100 ml a soli 6 euro allora ragazzi queste profumazioni sono molto estive in quanto contengono una profumazione arrumata proprio estiva perfetta per l'estate con accenti esotici florali quindi ragazze affrettatevi in quanto sono dei profumi prettamente estivi proprio per per l'estate un profumo estivo al 100% che poi non ha nemmeno una cosa grande un così grande prezzo dopo di che Avon ha fatto uscire centini nuovi centini centini night sono quei profumi diciamo mini size da 30 ml e abbiamo tre diverse fragranze allora io ne ho acquistata una per farvela vedere ed è centini night purple pulse è un eau de toilette vaporisateur da 30 ml allora questo lo trovo molto ma molto buono molto fruttato in quanto è un'armonia orientale fruttata e si presenta così è un profumo bifasico in quanto deve essere agitato e poi deve essere spruzzato e qui abbiamo l'erogatore è un profumo perfetto per le ragazze di 15-16 anni che io a cui io lo consiglio non solo per la mattina anche per andare a scuola ma anche per la sera in quanto ha un buonissimo profumo fruttato allora non ha un'ottima ottima 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 devo dire che anche all'interno di questo profumo abbiamo come se avessimo dei micro glitter non so se è una impressione però ditemi voi come se ci fossero dei brillantini e la cosa mi piace ha un profumo ottimo mi ricordo un profumo che io già avevo sentito tempo fa ve lo consiglio Miri ha acquistato questo che praticamente sarebbe si chiama Midnight Glow ed è un'armonia fruttata legnosa ragazzi è buonissimo è dolcissimo ve lo consiglio anche alle ragazze di 15-16 anni sono dei profumi come dico sempre io che non hanno età sono davvero ottimi poi Avon presenta anche questo qui un profumo maschile che praticamente si chiama perfect strange che praticamente abbiamo lo de toilette spray abbiamo anche il bassamo dopo barba e il deodorante con vaporizzatore e tutto il setto a 22,50 euro praticamente abbiamo note verdi di cipresso ammorbidite con sensuali accenti coiati e morbida ambra quindi per un maschio che non vuole passare inosservato dopodichè Avon ha presenta una nuova linea di shampoo con shampoo alla profumazione di fiori di disco e lampone al costo di 2,50 euro e presenta uno shampoo uno spray rinfrescante per i capelli e un balsamo allora io ho acquistato perchè non ne avevo non ne ho mai avuti lo spray rinfrescante per i capelli è un 100 ml con scadenza 12 mesi dall'apertura faccio vedere allora ok allora è un profumo molto buono si sente molto ma molto molto il lampone e va spruzzato o dopo che vi fate lo shampoo quando state per asciugare i capelli oppure ogni qual volta lo desiderate perchè non avete fritto avete fumato questo fa sentire veramente il profumo secondo me è molto buono ottimo anche per quelle persone che fumano oppure che sono sempre accanto alla cucina che friggono quindi secondo me è perfetto buono 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 ha proprio una fragranza estiva allora ragazze questo è il video per i consigli degli acquisti di campagna 03 vi consiglio di eh acquistare eh i prodotti per il makeup che penso che siano molto molto ottimi vabbè oggi grazie il video delle gaffe perchè l'ho fatto tre volte mi sono rotta le balls e anche questi sia i profumini sia Miami Beach sia anche questo vi mando un grosso bacio e eh forse la mira non lo so mi sta regalando qualcosina per il mio compleanno che è il 17 maggio quindi spero che mi mandi degli auguri non lo so spero mi piacerebbe e però non è eh l'ultimo video che faccio perchè giorno 14 arrivano i prodotti di campagna 02 quindi un grosso bacio e al prossimo video ciao